Napoli batte Parma 2-0, tre punti importanti per il prosieguo della stagione, gara con poche emozioni. Non è certamente stata la nostra miglior prestazione, bisogna dirlo, prestazione poco convincente e sotto tono per larghi tratti, ma l'auspicio è che questa vittoria possa sbloccare mentalmente la squadra dandole morale e un'iniezione di fiducia in vista dei prossimi importanti impegni. Nella prima mezz'ora possiamo dire di aver visto il nulla totale e a sbloccarla è una grande azione personale di Elmas. Nei primi 30 minuti il Napoli ha mantenuto il possesso palla, giro palla prolungato, però come di consueto gli azzurri non sono riusciti a dare intensità alla propria manovra e a trovare spazi dinanzi ad un avversario ben chiuso dietro la propria metà campo. E come detto a siglare il gol del vantaggio è Elif Elmas con davvero una giocata di pregevole fattura. Il centrocampista macedone si impossessa del pallone, avanza, salta un paio di difensori avversari, arriva in area di rigore, calcia e batte sepe. Elif Elmas che dunque segna il suo secondo gol consecutivo dopo quello messo a segno giovedì in Coppa Italia contro lo Spezia. Quest'oggi è stato confermato il centrocampo a tre con Elmas e Zielinski Mezzali e Demme in cabina di regia. E comunque sappiamo che il macedone è un calciatore di ottime qualità tecniche che sino a questo momento nel corso di questa stagione non era riuscito a dare un importante contributo ma si spera che questa possa essere la svolta per lui. Poi dopo il gol del vantaggio sul finire della prima frazione c'è anche l'occasione per il raddoppio. Petagna crossa al centro per Lozano che tenta con il piatto ma non riesce ad inquadrare la porta. la palla esce a lato di poco. Poi inizia la ripresa e c'è un Parma più aggressivo, un Parma più aggressivo mentre noi ci abbassiamo ed adottiamo un atteggiamento maggiormente attendista. Ci facciamo schiacciare forse un po' troppo. Fatichiamo ad uscire dalla nostra metà campo e a tenere palla. Era chiaro che comunque la squadra è entrata in paura perché si è capito proprio da quest'atteggiamento nella ripresa che nella gara contro il Parma di questa sera non interessava tanto la prestazione ma interessava appunto in primis il portare a casa i tre punti e al settantasettesimo Gattuso è addirittura passato al 3-4-2-3-1 con l'ingresso in campo di Maximovic e di Lorenzo e di Sai hanno praticamente fatto gli esterni nel centrocampo a quattro. E comunque la squadra si è difesa piuttosto bene non concedendo alcuna palla gol alla formazione educale. Poi all'ottantaduesimo minuto arriva il raddoppio. Politano calcia dal limite dell'aria. Tiro deviato da Osorio e che poi finisce in porta. 2-0 giochi chiusi e Politano insieme ad altri calciatori azzurri subito dopo la rete corrono ad abbracciare mister Gattuso in panchina e questo è un abbraccio significativo. Fa piacere perché comunque vuol dire che il gruppo è unito, il gruppo è con Gattuso e ciò è un qualcosa di fondamentale comunque per cercare di proseguire nel migliore dei modi. Con questi tre punti ci portiamo a quota 37. Quinto posto a pari punti con la Lazio scavalcata l'Atalanta. La Roma sta vincendo 3-0 con il Verona dunque resta tre punti avanti e adesso siamo attesi dall'andata della semifinale di Coppa Italia contro l'Atalanta. La gara si disputerà mercoledì al Maradona e speriamo bene. Si gioca in casa e dunque sarebbe opportuno portare a casa la vittoria possibilmente senza subire gol. E poi sabato prossimo ci sarà un'altra sfida molto ostica contro il Genoa. Squadra che da quando è arrivato Ballardini sta avendo una crescita esponenziale e reduce da un rendimento veramente ottimo di risultati. Si è completamente staccato dalla zona della retrocessione sarà sicuramente un impegno molto difficile. Ma adesso ovviamente il gruppo deve compattarsi, deve comunque cercare di avere il piglio giusto, di sbloccarsi mentalmente, di avere la giusta determinazione perché siamo attesi da un intenso tour de force, da un calendario fitto di impegni. 8 partite nel giro di meno di un mese ed ovviamente qui ci andremo a giocare una buona fetta di stagione. E che dire, incrociamo le dita. Detto questo è tutto, noi ci vediamo ad un prossimo video e sempre Forza Napoli!